Buonasera e ben trovati con l'informazione di Teleroma 56. L'emergenza idrica in primo piano. Le istituzioni sono al lavoro per scongiurare l'ipotesi di razionamento dell'acqua per un milione e mezzo di romani. A breve è previsto un tavolo in Campidoglio e successivamente un vertice al Ministero dell'Ambiente. Allora vediamo il servizio di Benedetta Bertini a seguire il parere dei romani sull'ipotesi del razionamento dell'acqua. Si terrà tra mercoledì e giovedì la riunione dell'osservatorio permanente sugli usi idrici dell'Apennino centrale al Ministero dell'Ambiente. L'incontro, già stabilito da tempo, assume oggi una valenza particolare alla luce della crisi idrica e dello spettro che incombe su Roma dell'acqua razionata. Al tavolo, oltre al Ministro Galletti, siederanno anche i tecnici della Regione Lazio, di Aceato 2 e l'autorità di Bacino. Ed è proprio da questo vertice che si spera arrivi la svolta. Intanto questa mattina la sindaca Virginia Raggi, in una video-intervista rilasciata al messaggero, ha annunciato l'intenzione di chiamare Acea e la Regione Lazio per convocare in Campidoglio un tavolo per evitare strumentalizzazioni e trovare soluzioni e risorse. Bisogna trovare delle risorse e delle soluzioni concrete immediatamente nel breve, medio e lungo periodo. Da questo punto di vista posso dire da un lato che è inaccettabile che oltre 1 milione e 500 mila romani rimangano senza acqua. Dall'altro devo comunque notare che immediatamente all'indomani del cambio di governance di Acea c'è stata un'inversione della tendenza, c'è immediatamente fatto investimenti sulle reti e ha ridotto già la captazione dal lago di Bracciano di oltre 700 litri al secondo. Quindi misure sono state messe in campo ma c'è ancora da lavorare. Una guerra complessa quella sull'acqua che ha visto venerdì scorso la Regione Lazio dire stop ai prelievi di Acea al lago di Bracciano. La sospensione della captazione di acqua dal lago di Roma Nord, spiegano dalla Regione Lazio, non è stata una scelta ma un obbligo perché il livello era troppo basso e questo può generare una catastrofe ambientale. Proprio su questa vicenda è tornato a parlare oggi il governatore Zingaretti che ha chiesto lo stato di calamità naturale. Io credo che se è vero che veniva prelevato solo un millimetro al giorno dire poi che ora bisogna bloccare l'acqua per otto ore a tutti i romani o a gran parte dei romani sia una esagerazione. Io non ho mai fatto polemiche, non farò mai polemiche soprattutto su temi così delicati, però chiedo a Acea che è l'ente gestore di formalizzare una proposta alternativa. Noi faremo di tutto per collaborare, compreso anche valutare captazioni da altre fonti per permettere di garantire il servizio idrico alla città e credo che anche il governo che sta valutando lo stato di emergenza farà la stessa cosa. Quindi ora è il tempo di trovare soluzioni e dialogando, parlando, io credo si possano trovare. E non si è fatta attendere la replica Zingaretti da parte di Acea? La Regione ci illustri il suo piano, procederemo con le rigide turnazioni già annunciate. Ed ancora, se questo piano alternativo non sarà illustrato all'azienda e l'ordinanza emessa dovesse restare in vigore, Acea non potrà fare altro che procedere con le rigide turnazioni già annunciate, ovviamente provvedendo ad informare nei prossimi giorni gli utenti circa le modalità di applicazione e fornendo consigli utili sugli usi idrici. Intanto, secondo quanto si apprende, sono 20 comuni in provincia di Roma già interessati dalla turnazione dell'acqua. Starà leggendo del razionamento dell'acqua possibile a Roma, che ne pensa? Spero che non sia vero, che è impossibile per un millimetro e mezzo di acqua che si consuma sul lago di Bracciano che ci sia questo stop all'acqua su Roma. Gioco forza, se manca bisogna partecipare a tutti quanti. Accoglierebbe insomma con favore? Dispiacere, ma trovo che sia... se non c'è... Anche perché sennò praticamente qualcuno rimane proprio 0-0 senza. Penso che non si possa fare a meno purtroppo. Speriamo che le condizioni climatiche migliorino a tal punto da poter permettere una soluzione più vivibile. Lei che ne pensa? Beh, metterebbero dei rubinetti a Niasoni. Anche nelle case? Che ne penso? Le case no, chiuderebbe tutte le fondane che ci stanno fuori. Dico che adesso credo che manco servirebbe, andiamo contro l'agosto, perciò Roma si svuota e dovrebbe essere un grosso problema. Però se manca bisogna approvvigionarsi, come facciamo? Un provvedimento bisogna avviarla. Però credo, ripeto, che penso che il mese d'agosto questo problema non ci sarà. Poi speriamo che arriva l'acqua e che tutto si pianifica. Considerando che dove noi la mandiamo da Riedi, io sono di Riedi, alla città da Riedi, mandiamo l'acqua giù, se ne sprecano fiumi enormi di acqua. Mi sarebbe prendere e portarla giù. Se tirano solo l'8% da braccia non si capisce perché debbano togliere l'acqua per otto ore a tutti. La coglierebbe uno sfavore, insomma. Certo che sì, diciamo, non mi sembra giustificato con i numeri, dopodiché. Da una parte è anche giusto, nel senso che comunque sia si spreca tanta acqua. Certo, non so se otto ore poi vanno bene anche per il cittadino, perché comunque otto ore sono molte. Vedremo. Se è necessario bisogna farlo. Penso che è una misura estrema, ma le estreme misure estreme. Apertura delle pagine romane di Repubblica su questo tema. Corsa contro il tempo per evitare stop acqua. La Raggi sente Nicola Zingaretti e vertice Regione Aceapri. Il Governatore blocca otto ore e esagerazione, come abbiamo sentito nel servizio di Benedetta Bertini. L'azienda dice il piano spetta alla Regione, intanto il Vaticano spegne le fontane. Il piano è sfruttiamo al limite gli invasi e l'acqua non sarà più razionata. Passiamo da un'emergenza all'altra, perché vi parliamo ora dell'emergenza carceri. Lo facciamo con l'ospite del nostro telegiornale, il Segretario Generale del Sappe, Donato Capece. Buonasera e bentrovato. Buonasera a voi, buonasera. Segretario, vediamo la scheda che introduce il tema, con un focus in particolare sui numeri riguardanti proprio la nostra Regione, la Regione Lazio, e poi commentiamo in studio. È sempre più allarmante la situazione nelle carceri del Lazio. Nei 14 istituti penitenziari della Regione si contano 1.026 detenuti in più rispetto alla capienza regolare, secondo quanto reso noto da un'indagine della Federazione Nazionale di Sicurezza della Cisle del Lazio. Complessivamente sono 6.260 le persone recluse rispetto ad una disponibilità totale di 5.234 posti. Particolarmente preoccupante risulta il sovraffollamento negli istituti. Il carcere di Re Bibbia, ad esempio, ospita 270 detenuti in più rispetto al numero massimo di posti disponibili. Stesso discorso per quello di Regina Celi, che registra un più 276 ed ancora 101 detenuti in più a Cassino e 176 a Viterbo, 173 in più a Velletri e 107 a Civitavecchia, giusto per fare alcuni esempi. Una situazione resa ancora più esplosiva dal caldo di questo periodo, che non accenna a migliorare nonostante gli appelli, le polemiche o l'aumento di gravi episodi. A nulla sembra essere servito lo stato di agitazione negli istituti penitenziari delle scorse settimane. Al sovraffollamento si aggiunge poi l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e la crescente carenza di risorse umane che vede gli agenti di polizia penitenziaria costretti a lavorare sotto organico e senza mezzi adeguati. Senza dimenticare poi il problema dei suicidi che avvengono nelle carceri e che troppo spesso non hanno risalto mediatico. Dall'inizio dell'anno sono oltre 23 le persone che hanno scelto di farla finita dietro le sbarre. Numeri certificati anche dal dossier Morire di carcere che solo nel 2016 ha registrato 45 suicidi dopo i 43 dell'anno precedente. Una vera e propria emergenza a cui è urgente dare delle risposte. Segretario Capece, come si spiega questa emergenza carceri? Intanto devo dire che il servizio dà una situazione veramente reale di quelle che sono le criticità che esistono nelle nostre carceri romane, del Lazio o a livello nazionale. Le criticità sono state accentuate recentemente purtroppo per una scelta fatta dall'amministrazione penitenziaria rispetto di quelle che sono le direttive europee di aprire le celle tutta la giornata. In pratica noi abbiamo dalla mattina alle 8 alla sera alle 17 circa 70-100 detenuti che circolano liberamente nella sezione detentiva, il poliziotto lo abbiamo tolto dalla sezione detentiva anche per ragioni di sicurezza, quella che chiamano in gergo tecnico vigilanza dinamica. La vigilanza dinamica. Il problema è che è diventato pericolosissimo perché togliendo l'agente da quella che era la vigilanza statica, cioè la vigilanza dell'agente e la sezione detentiva, sono aumentati i rischi suicidari. E la gente si trova, gli agenti si trovano in sottonumero? Sì, la gente va a fare il controllo di tanto in tanto con una pattuglia composta da due unità. Il vero problema è che purtroppo si instaura nella sezione detentiva la legge del più forte, vengono commessi reati, sopraffazioni, violenza privata, furti e quant'altro, non c'è più l'agente che rappresenta lo Stato e che può e deve intervenire per prevenire o comunque per poi successivamente produrre gli atti dell'autorità giudiziaria per perseguire chi commette reati. Facendo una media, il rapporto con la cosiddetta vigilanza dinamica è il rapporto agente-detenuto? Ma diciamo che in ogni sezione abbiamo per il controllo di 70-100 detenuti un solo agente, quando va bene. Quando poi si instaura questa vigilanza dinamica abbiamo un agente che addirittura deve controllare 150-200 detenuti. È chiaro che non riesce a controllare perfettamente niente ed è questa la nostra preoccupazione perché questi fatti, questa scelta sbagliata fatta dall'amministrazione penitenziale che noi stiamo contestando ha portato e rischia di portare il carcere ad una implosione. Ecco, secondo alcuni proprio a causa di questa vigilanza dinamica il fatto che gli agenti siano in sottonumero rispetto ai detenuti si spiegano anche evasioni come quella clamorosa di Rebibbia di qualche mese fa. Ma certo, perché la gente che è in vigilanza statica, che fa servizio di sicurezza nell'ambito della sezione controlla e nessuno si permette di lavorare di nascosto per cercare di tagliare le sbarre o procurarsi attrezzi che poi gli servono per evadere. Il poliziotto se vede qualsiasi fatto estraneo interviene immediatamente quel detenuto viene isolato e quindi si fa il controllo immediato e quindi non c'è nessun rischio di evasione. Purtroppo si è voluto togliere l'agenda della sezione, è chiaro che quando andiamo a controllare tutto in regola, poi quando l'agenda esce dalla sezione chi vuole, chi deve, chi ha in mente un disegno criminoso dell'evasione lo può fare tranquillamente perché non c'è più la vigilanza statica del poliziotto penitenziario. Nel Lazio noi abbiamo oggi, marchiamo una carenza di organico di quasi mille unità e quindi lavoriamo con grandi difficoltà, parliamo del carcere di Frosinone, parliamo del carcere di Cassino dove tuttora facciamo continue manifestazioni di protesta davanti all'istituto, il dipartimento se ne infischia. Adesso ultimamente siamo riusciti dopo tante proteste ad ottenere lo scorrimento e l'assunzione dalle graduatorie di circa mille unità che sono ai corsi di formazione, quindi fino a fine anno dovremmo fare i salti mortali e qui si innesca anche il problema del rispetto dei diritti soggettivi del poliziotto perché chiaramente dobbiamo garantire la sicurezza e quindi quello che tutti i cittadini fruiscono ogni anno come riposo psicofisico, i poliziotti penitenziari sono costetti spesso e volentieri a non poter fruire di quelli che sono i diritti soggettivi legati alle ferie, ai riposo estetimaneale e quant'altro. Nuttelgeri, ci viene chiesto tantissime ore di prestazione di oro straordinario e qui aggiungo spesso e volentieri non vengono corrisposte perché le risorse per il pagamento dello straordinario vengono a mancare. Ecco in questo scenario ovviamente le condizioni sono impossibili sia per l'agente penitenziario sia ovviamente per i detenuti, al netto di tutto. Con lei ci stiamo ovviamente concentrando oggi sulla vita e sul lavoro dell'agente penitenziario. Le riporti, i dati diffusi dalla Presidente dell'Associazione Vittime del Dovere Emanuela Piantadosi che dicono che negli ultimi dieci anni abbiamo assistito al suicidio di 110 agenti della penitenziaria, è un dato inquietante. Sì, sicuramente è un dato allarmante, è un dato che deve lasciare riflettere perché oggi lavorare in carcere è diventato difficilissimo. quando parliamo di effetto burnout che è correlato a quello che è lo stress. È una vera e propria patologia. È una vera e propria patologia che rischia spesso per quelli che non riescono attraverso una camera di decompressione a recuperare lo stress procurato nell'ambito del servizio Il rischio è che poi si arriva al momento in cui il più debole, psicologicamente il più debole, purtroppo mette in moto questo insano gesto. Noi siamo qui, e ringrazio la vostra emittente, per dire che la politica, l'amministrazione non devono dimenticarsi delle carceri ma soprattutto non devono dimenticarsi di questi eroi silenziosi che sono i poliziotti penitenziari. A questi uomini e queste donne a mio avviso va un grandissimo ringraziamento per i tanti sacrifici che quotidianamente fanno perché sotto organico comunque sono lì a garantire la sicurezza ai cittadini. Quindi da parte mia il plauso per l'operatività di questi nostri colleghi ma alla politica dico solamente potenziate gli organici perché se volete la sicurezza ai cittadini non potete tagliare sulle forze di polizia, sulla polizia penitenziaria. Ecco, un ultimo aspetto che vorrei affrontare con lei e poi la saluto, ultimo aspetto ma non meno importante, l'aspetto sanitario. Secondo recenti studi di settore è stato accertato che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su tre sono malati, tra le malattie più frequenti proprio quelle infettive che interessano il 48% dei presenti. Ma intanto devo dire che sui 6.300 detenuti presenti nella regione Lazio il 43% di questi sono detenuti stranieri, parlo di 2.700 unità che sono portatori comunque di malattie infettive e qui il personale di polizia. Noi non possiamo sottoporre a uno screening obbligatorio per sapere il soggetto a che tipo di malattie, che tipo di patologia porta in carcere, perché sono soggetti che arrivano dall'estero, sono immigrati che arrivano spesso con malattie abbastanza importanti. Devo dire che nonostante le tante difficoltà il servizio sanitario si dà da fare per cercare di fare prevenzioni, però si investe poco sulla sanità. È necessario che la sanità in carcere faccia più prevenzione e soprattutto investa risorse finanziarie importanti per cercare di garantire a tutti, ma soprattutto i poliziotti penitenziari, che non possono portarsi a casa le patologie infettive che possono acquisire nello svolgimento del servizio quotidiano. Grazie, grazie al segretario generale del SAP Donato Capesci. Arrivederci. Grazie a voi, buonasera. Andiamo avanti con il telegiornale. Non si ferma il progetto del Campidoglio per creare nel cuore del rione Monti un'isola pedonale. I comitati protestano, mentre i cittadini della zona si dividono tra favorevoli e contrari. Piazza Madonna dei Monti è un ideale tridentino tra l'omonima via, via Leonina e quasi interamente via Urbana. Arterie del rione Monti che, nelle intenzioni del Campidoglio, presto dovranno diventare isola pedonale, anzi isola ambientale. Il tutto nell'ambito di un progetto targato marino, ma ripreso convintamente dai Cinque Stelle, denominato Argiletum, nell'antichità il sentiero che univa Roma a quella che un tempo era la Suburra. Strade pedonalizzate, parcheggi vietati, marciapiedi allargati, uno stravolgimento degli attuali sensi di marcia e nuovi varchi ZTL, una rivoluzione della mobilità, un progetto più ampio di quello originariamente proposto da qualche esercente che prevedeva solo la pedonalizzazione di via Urbana. Nel tempo è montata la protesta di molte associazioni, riunite nel coordinamento dei comitati Rione Monti, oltre mille firme raccolte per scoraggiare la giunta Raggi a proseguire nel progetto. Troppo traffico, dicono, si riverserebbe appesantendole in strade come via Panisperna o come via dei Serpenti, arteria che collega il Rione a via Cavourra con sullo sfondo vista Colosseo. E poi il rischio di una trastevere bis, cioè di un quartiere che già soffre, a detta di molti, di una movida incontrollata e che con la creazione dell'isola pedonale sarebbe destinata ad aumentare. E i cittadini che ne pensano? Sentiamoli. Io penso che si stiano innestando delle polemiche sterili, perché tanto la situazione non può diventare peggio di quella attuale. Io poi, guardi, abito proprio qua. Quindi, tra i locali, tra le automobili, tra tutto, cosa può peggiorare? Niente. Cioè, secondo me, anzi, creano degli spazi per le persone che possono farsi una bella passeggiata con il cane senza schiacciarsi contro il muro. Io non credo che questa pedonalizzazione porti a un secondo trastevere, perché non c'è l'interesse e la volontà da parte di nessuno di diventare così. Ma lei è favorevole o contrario? No, favorevole. Molto favorevole. Perché? Perché? Anzi, le giro le obiezioni di che è contrario. Fanno paura che diventi una trastevere bis, molto caos la sera. Questo purtroppo sarà inevitabile, però è sempre meglio dell'inquinamento che fanno le automobili, della sporcizia che fanno accumulare sulle strade. Ci sarà da dormire meno di notte, ma la bella stagione dura poco, poi ritorna la tranquillità. Contraria? Perché dove passano le macchine qua? Mi dica lei, mi dica lei, mi dica lei dove passiamo tutti i residenti, dove andiamo? Voliamo? Ci abbiamo l'elicottero? Scusi, c'è gente malata, gente vecchia, gente anziana, bambini. Che facciamo? Il Consiglio di Stato dice sì al Parco archeologico del Colosseo. Leggiamo la notizia dal sito del messaggero, notizia che è arrivata qualche istante fa e l'annuncio è arrivato proprio dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, con un tweet che recita così. Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar del Lazio, riparto nel Parco archeologico del Colosseo e la selezione internazionale per il direttore. Un colpo di scena alla vicenda che riguarda l'Anfiteatro Flavio. La sesta sezione del Consiglio di Stato, con due diverse sentenze depositate oggi, ha accolto gli appelli del responsabile del MIBACT contro le due sentenze dei giudici del Tribunale Amministrativo di Via Flaminia che si erano pronunciati a favore del Campidoglio per l'istituzione del Parco archeologico del Colosseo e per la nomina del suo direttore attraverso un concorso internazionale. Il Campidoglio infatti nella figura del sindaco Virginia Raggi e del suo vice, nonché assessore alla cultura, Luca Bergamo, si era opposto alla nuova riorganizzazione delle soprintendenze romane che tra le altre cose prevedeva per l'appunto l'istituzione del Parco archeologico del Colosseo che avrebbe avvocato a sé la gestione del foro romano, Palatino e Domus Aurea in quanto lesiva degli interessi di Roma Capitale. Va avanti la battaglia di molti ordini professionali per ottenere di nuovo una legge sul giusto compenso per le loro prestazioni. Solo poche settimane fa in 30.000 hanno manifestato, sentiamo le ragioni di questa protesta. Oltre 30.000 professionisti, architetti, ingegneri, avvocati, medici e molte altre categorie in piazza contemporaneamente. La battaglia è quella portata avanti dal neonato comitato riunito sotto l'hashtag Noi Professionisti. Il tema è quello della richiesta di una nuova legge sul giusto compenso per le prestazioni professionali. Senza un tariffario di riferimento dicono si perde di qualità e trasparenza, anzitutto nei confronti dei cittadini. Tutto comincia nel 2006 quando vengono abrogati i minimi tariffari in quel momento e poi nel 2012 vengono abrogati tutti i riferimenti alle tariffe. Noi riteniamo che una professione ordinistica come quella che noi svolgiamo debba avere dei parametri che, come dice l'Europa, sono anche a tutela dei cittadini. Quindi è un passaggio importante. È chiaro che poi c'è anche delle ripercussioni su di noi. Questo è pacifico, non è che ci nascondiamo dietro un dito. Però il giusto compenso sostanzialmente è che in qualche maniera è legato proprio alla qualità della nostra prestazione. Ovviamente se tutto viene ridotto a un aspetto economico poi diventa tutto legato solo al valore commerciale delle cose e quindi vengono a perdersi tutta una serie di valori e di rilevanze che il professionista deve avere. Chi ricorre ai professionisti non può e non deve entrare nel vortice della ricerca del massimo ribasso e una recente sentenza spagnola dice che il giusto compenso non è, come si è detto per anni, in contrasto con alcuna norma europea sulla concorrenza. Ora dal comitato Noi professionisti arriva una proposta di legge al ministro Poletti che ha già incassato il sostegno bipartisan di molti parlamentari. Anche se poi nel giusto compenso si lega anche al riconoscimento della professione intellettuale, ecco questa è una cosa a cui noi teniamo molto, cioè la professione intellettuale non è una gestione, diciamo non è, noi siamo equiparati sempre alle imprese, in Europa c'è sempre questa equiparazione. Noi ritengo che sia sbagliato anche questo, cioè noi gestiamo i nostri studi come delle imprese, è chiaro, insomma tutti quanti poi hanno un approccio imprenditoriale, ma sostanzialmente la professione intellettuale è altro. Lo sport e il calcio, la Roma è sempre impegnata nella tournée americana, alla vigilia dell'amichevole con il Tottenham, la Lazio ha lasciato il ritiro di Auronzo Di Cadore, sullo sfondo sempre però il calciomercato con la Roma che prova a chiudere per Mares dell'Eister, la Lazio ha sempre alle prese con la grana Keita e spunta anche Sansone come sostituto del giocatore bianco celeste. Il nostro consueto punto sul calciomercato. In questo momento non siamo competitivi per i primi posti, parola di Simone Inzaghi che al termine del ritiro di Auronzo Di Cadore ha voluto lanciare un messaggio preciso alla società, troppi casi ancora da risolvere, il primo è naturalmente quello di Keita che ancora resta la Lazio ma sappiamo benissimo essere al centro di tante discussioni di mercato. Il tecnico vuole rinforzi, li vuole soprattutto in avanti perché se è vero che con Luca Sleiva si è in qualche modo tamponata l'emergenza al centrocampo dopo la sostituzione di Biglia e se è vero che in difesa è arrivato Marusic che viene considerato comunque un giocatore ad altezza davanti alla Lazio agli stessi calciatori dello scorso anno ma con il dubbio relativo a Keita. Venerdì la Lazio partirà per la tournée in Austria, Inzaghi ha chiesto un attaccante entro venerdì, probabilmente per prendere il posto di Djordjevic e probabilmente potrà essere un'operazione secondaria quindi un quarto attaccante, si è fatto il nome di Caesedo, ce ne sono anche tanti altri in Lizza e poi capire una volta ceduto Keita e con i soldi di Keita dove andare ad investire quei soldi. Si cerca una punta che possa fare il centro avanti, che possa fare all'occorrenza anche l'esterno, uno di quelli che è in grado di ricoprire più ruoli. Il direttore sportivo Tare sta cercando di chiudere qualche operazione ma serve ancora un po' di tempo. Una pazienza che Simon Inzaghi comincia però a non avere. Al momento la Roma è in attesa di completare una squadra già delineata in modo robusto e importante con il pezzo pregiato della stagione del precision del mercato che dovrebbe essere nelle intenzioni di Monc, di Francesco, di tutto l'ambiente, Riyad Marez. Al momento c'è disparità fra richiesta dell'estero e offerta della Roma però è una situazione in divenire dove le componenti che ruotano attorno all'affare sembrano convergere perché il giocatore ha già espresso la volontà di tentare una nuova strada in un club che gli assicuri la Champions League. La Roma è questo e c'è un accordo di base col procuratore del giocatore. La Roma ha individuato la primissima scelta a lui e l'Eister ha capito che forse è il momento di cedere il giocatore, preferibilmente non a un club che sia concorrente dell'Eister stesso nella medesima Lega. Quindi l'attesa è tutta per questo colpo che potrà realizzarsi non in modo istantaneo e prossimo, magari entro la prima decada di agosto, ma considerando gli arrivi già effettuati a centrocampo con Gola Lonza e Pellegrini, davanti con Defrel e ovviamente questo ragazzo turco, è in difesa con Moreno più Kasdorp a destra e soprattutto Kolarov che al di là delle polemiche sulla sua antica provenienza è un surplus di esperienza e qualità a livello internazionale in attesa di Palmieri, è chiaro che a quel punto l'arrivo di Marez delineerebbe in modo definitivo e in anticipo rispetto ai tempi consueti una squadra anche per questa stagione in grado magari non di vincere nessuno la bacchetta magica o la sfera di cristallo ma di primeggiare sì. I contatti della nostra redazione per le segnalazioni potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolateleroma56.tv sulla nostra pagina Facebook e su Twitter sul nostro account chiocciolateleroma56. Tutto per stasera, grazie per l'attenzione e arrivederci.